L'estetica è discutibile e come diceva la minonna, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. E ora non manca che iscriverti al canale, per te è gratis e per noi è molto importante. Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale. Oggi siamo in sella finalmente al Bisonte GS 1300 ADV con cambio ASA. Spero di poter fare un po' di strada e riuscire a capire qualcosa di questa moto, anche se non ho molto tempo, ma soprattutto mi sembra che il tempo non voglia essere clemente con noi. Speriamo bene. Purtroppo da questo momento devo commentare il video in post-produzione, perché il microfono ha pensato bene di spingersi e purtroppo non me ne sono accorto e quindi tutto il registrato è andato perduto, a parte le immagini chiaramente. Vabbè, cosa dire di questa moto? Sin dai primi metri ne sono rimasto affascinato. Sarà per le diabolerie elettroniche che sono state inserite in questa moto, soprattutto per l'abbassatore che ai semafori fa un gran lavoro perché abbassa la moto di circa 3 centimetri. E così permette ai diversamente alti, tipo me, che sono un metro e settanta, di arrivare agevolmente con i piedi per terra e avere una bella impronta. Questo vuol dire anche sicurezza, vuol dire sicurezza nelle manovre da fermo, vuol dire sicurezza al semaforo, vuol dire sicurezza nelle partenze. Se poi aggiungiamo che questa moto ha anche il cambio ASA, quindi il cambio automatico senza frizione, anche la mancanza della leva della frizione ci dà una grande mano nelle partenze. E quindi la moto sembra ancora più facile e quando sei in sella non ti sembra di essere sopra quel bisonte che invece noti quando sei di fronte a lei. Ti sembra veramente di avere a che fare con una moto molto più snella, molto più agile, dinamica. Io sono abituato a una BMW R1250 Aventure e sinceramente qui mi sembrava di essere salito su una versione, perlomeno una versione standard, ma forse addirittura anche più piccola. Vabbè, è una cosa per me molto positiva, oltretutto poi non dobbiamo più fare magheggi come definisco io, come facevo con il R1250, che magari in città mettevo la posizione più bassa delle sospensioni e poi dovevo fare al volo, magari quando uscivo dalla città, quando non mi serveva più, dovevo aumentare, mettere in automatico così che la moto rientrava a livello e mi stava equilibrata. Adesso non lo dovrò più fare e questo per me è un grandissimo vantaggio, chiaramente. E anche una grande sicurezza perché io che viaggio sempre in due o quasi sempre in due e con i bagagli stracarichi è molto importante. Quindi parliamo ancora del cambio ASA, che è la seconda volta che provo. E a me nel complesso piace, poi potrebbe essere migliore? Sì, potranno affinarlo, spero. Fa un discreto lavoro, perché sinceramente, secondo il mio punto di vista, fa un discreto lavoro. L'unica cosa che fa, magari che non mi piace tantissimo, cambia molto spesso marcia, soprattutto quando facciamo un po' di tira e molla in città, che magari ci sono le macchine, devi magari allungare un pochino, poi devi togliere gas. Il cambio continua a mettere e togliere marce e fa un super lavoro, per carità, fa tutto lui. Però senti questo cambio che continua in continuazione a far salire e scendere marce. Poi quando invece la strada è aperta e non hai particolari problematiche di traffico, il cambio fa, secondo me, un ottimo lavoro. Comunque non ci scordiamo che è sempre presente la leva del cambio a pedale e quindi basta agire sul tastino che è montato sul collarino di sinistra, mettere in modalità manuale e da quel momento lì possiamo utilizzare la leva del cambio come fosse una moto normale. Anzi, ancora meglio, perché non ci dobbiamo preoccupare di nessun modo della frizione, neanche quando ci fermiamo al semaforo e dobbiamo ripartire. Ripartiremo solo cambiando le marce, ma senza problemi di stacchi di frizione, senza problemi di spengimenti, senza nessun tipo di problematica del genere. E secondo me su una moto del genere, beh, non è male. Le sospensioni mi sono sembrate leggermente più sostenute rispetto al 1250 e questo sinceramente non mi ha dispiaciuto. Veniamo al reparto, diciamo, viaggio. Il reparto viaggio io considero le borse e tutti gli accessori per viaggiare. Le borse purtroppo non erano presenti sulla moto in prova e non erano presenti neanche in concessionaria. Speriamo che siano presenti quando consegneranno le moto. Il concessionario non mi ha detto niente specifico, sinceramente. Non mi ha detto né sì né no, almeno in questa situazione. Leggendosi i vari social, forum e quant'altro, sembra che qualche concessionario invece si sia sbilanciato dicendo che ci saranno da dicembre, ci saranno da gennaio o addirittura ancora più in là. Speriamo che siano tutti discorsi e che li porti via il vento e che purtroppo non ci siano le problematiche che ci sono state sulle GS standard con le valigie che tutti conosciamo e che tutti i possessori delle GS standard sono abbastanza arrabbiati o delusi, soprattutto chi ha scelto di aspettare le borse BMW, che ancora, che io sappia, molti stanno aspettando. Speriamo che non succeda anche su questa, anche perché se la standard è nata per viaggiare, questa è assolutamente nata per viaggiare, è una moto del genere, senza le borse è veramente un casino. Quindi spero che al momento della consegna delle moto ci siano anche le borse e che tutti questi discorsi siano così, tanto per fare chiacchiera al bar. Comunque le borse dovrebbero essere abbastanza importanti, quindi dovrebbero contenere alla fine nel complesso qualche litro in più rispetto alle vecchie del 1250 e questo è una cosa, diciamo, interessante. In più BMW so che ha fatto praticamente degli ampliamenti che possiamo attaccare e staccare al bisogno, praticamente sono tipo delle fasce di espansione, che dovrebbero aumentare perlomeno una decina di litri a borsa il volume di carico. Questo penso sia una cosa intelligente e credo, se non ricordo male, che costino tipo 410 euro questi ampliamenti. Molto interessante e che ho visto dal vero è la borsa da serbatoio. Secondo me è particolarmente fatta bene. Innanzitutto si aggancia all'aggancio che c'è alla base del serbatoio e agli altri agganci che ci sono alla base, vicino al tappo della benzina. Si può ribaltare per quando dobbiamo fare il fornimento. È una borsa particolarmente capiente dove potremmo mettere cellulari, io metto le videocamere, insomma, e quant'altro. Portafoglio e che potremo portare magari quando ci fermiamo, potremo portare con noi perché si sgancia facilmente e velocemente. e la ritengo fatta molto bene. Questa mi sembra che abbia un costo di 380 euro. Non poco, ma sinceramente è fatta molto bene. Anche perché hanno fatto un cassetto davanti al tappo del serbatoio molto più ampio rispetto a quello della 1250. C'entra anche uno smartphone. Io ho un iPhone 15 Pro Max e sinceramente lo occupa totalmente. Io almeno non riesco ad attaccare un cavetto per la ricarica, anche se il cassetto sarebbe dotato di presa USB per attaccare un cavetto per ricaricare, ma fisicamente manca proprio lo spazio per inserire il cavetto nella presa dell'iPhone e quindi metterlo in ricarica. In più non è neanche areato, quindi mi sa che lì il telefono scaldi veramente tanto e non vorrei che proprio, specialmente d'estate, tenda a bloccarsi. E quindi mi sa che la borsa al serbatoio sarà sempre utile. Vabbè, adesso che dire? Parliamo un attimino della moto. La moto c'è poco da dire. Va veramente bene. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di fare tanti chilometri, ne ho fatti sei o sette, dieci in totali forse. E sinceramente la moto mi ha colpito per la sua maneggevolezza. Vi dico solamente che bisogna provarla, tanto poi ognuno ha le sue impressioni, quindi vi posso solamente dire che provatela e poi mi saprete dire. A me è piaciuta. È piaciuta veramente tanto. Anche per la sua estetica, che è un'estetica di rottura, un po' come BMW ha sempre fatto rispetto a tutti i cambiamenti che hanno fatto nel corso degli anni. Perché se andiamo a pensarci bene, l'R-1100, l'R-1150. Poi è stato fatto un bello step sull'R-1200 Bialbero. Altro step molto importante sull'R-1200 LC e 1250 LC, le ultime. Che anche lì è stato fatto uno step, se non ricordo male, nel 2012-2013. Molto importante. Tutti dicevano quando sono uscite quelle moto lì che non erano più le vere BMW. Ditemi voi quante moto sono state vendute successivamente. Sono piaciute e soprattutto sono delle moto, secondo me, veramente che anche oggi sono una pietra miliare per tante aziende che fanno moto da turismo. delle globetrotter del genere. Io penso che anche questa 1300 sia uguale, diventerà uguale. A me, ripeto, è sempre piaciuto dalla presentazione di Garmish e non l'avevo vista dal vero. Quando l'ho vista dal vero mi è piaciuta ancora di più. Però è un gusto personale, quindi di gustibus, assolutissimamente. Se avete seguito il video fino a qui io vi rinnovo la raccomandazione di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto di mettere un like e commentare. Ditemi quello che pensate di questa moto se siete riusciti a provarla di già quali sono state le vostre impressioni cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Scusate. Io sono di parte lo so benissimo viaggio con BMW da una decina d'anni perlomeno e quindi non posso essere che di parte. Però sinceramente ho provato altre moto ma poi non ce l'ho fatta mai a fare il cambio. Sono rimasto sempre nella casa dell'Erica. Posso dire che mi è piaciuto tutto a parte ecco una raccomandazione cioè una raccomandazione una nota negativa diciamo. Il menu sinceramente non mi è piaciuto non è molto intuitivo nel senso che purtroppo c'è un tastino che apre un menu a tendina a quel punto lì possiamo sceglierlo con la rotella e confermarlo con la rotella però poi dobbiamo ricordarci noi dove in quale menu in quale opzione siamo entrati perché non c'è scritto da nessuna parte dove quali abbiamo scelto e quindi o dobbiamo ripigiare il tastino oppure ripigiare il pulsante alto e basso che è posizionato sul tronchetto di sinistra per vedere cosa abbiamo scelto. Se magari visto l'ampio cruscotto se mettevano una piccola icona non sarebbe stato male vedete infatti dalle immagini che io sono lì che continuo a andare su e giù nel menu e quello non è appunto molto intuitivo solamente questa questa pecca sinceramente è la pecca del cambio che forse meriterebbe una elettronica un capellino più raffinata o magari più affinata ecco più che raffinata però ripeto a me la moto pur essendo nata adesso mi è piaciuta molto vi ringrazio e vi saluto tutti e arrivederci al prossimo video e grazie ancora di essere stati con noi e mi raccomando iscrivetevi al canale non ve lo fate riflettere altre volte per favore iscrivetevi al canale non costa niente e per noi vuol dire tanto ciao grazie grazie